Un mese fa la città veniva scossa dalla morte di tre ragazzi di 19 anni, Gian Maria De Gregorio, Oliviero Russo e Gianluca Del Torto. La loro auto precipitò nel vuoto dopo aver sfondato la ringhiera in una curva di via Petrarca. Oggi, che ricorre il trigesimo del tragico incidente, un gruppo di giovani tra parenti e amici delle tre vittime hanno costituito l'associazione 15 maggio 2011, il cui scopo è la promozione di attività mirata al coinvolgimento del mondo giovanile in iniziative di... L'associazione si impegnerà al fianco dei ragazzi, coinvolgendo anche le scuole, proponendo alle istituzioni provvedimenti per la sicurezza stradale e non solo. Vicepresidente della neonata associazione è Ottavia Russo, sorella di Oliviero. Di solito vedendo questi episodi da fuori uno ha la certezza che a te o alle persone vicine a te queste cose non possono succedere. Purtroppo non è così, noi vorremmo raggiungere tutti i ragazzi, non solo gli amici più stretti che hanno più che preso coscienza con questo episodio, ma anche tutti gli altri ragazzi. Quindi vorremmo fare propaganda, una campagna di informazione nelle scuole e promuovere uno stile di vita sano, fare attenzione ai ragazzi in quello che fanno, perché a questa età ci sente immortali, ma non è così. Primo impegno concreto è la petizione indirizzata alle autorità cittadine per ottenere una maggiore sicurezza e il continuo controllo del territorio cittadino. Il presidente dell'associazione, Ivan Supina Petrovic, cugino di Gianluca del Torto, spiega i dettagli. La prima iniziativa dell'associazione 15 maggio 2011 sarà una petizione, quindi una raccolta firme che sarà rivolta al sindaco, al questore, al prefetto e al comandante dell'arma dei carabinieri. Noi con questa petizione chiediamo un maggior controllo territoriale. Gli fa eco Vincenzo Orsini, segretario dell'associazione 15 maggio 2011. In quella curva, in quella famosa curva di via Petrarca ci sono 41 morti. Non vogliamo che ce ne sia il 42esimo, è una frase emblematica, perché rappresenta tutto ciò che la nostra associazione vuole essere e cerca di essere, ovvero vogliamo cercare di evitare che episodi come quello che ha toccato noi tocchino altre persone.